L'omino della pioggia di Gianni Rodari, illustrazioni di Nicoletta Costa e Medizioni Io conosco l'omino della pioggia. È un omino leggero leggero che abita sulle nuvole. Salta da una nuvola all'altra, senza sfondarne il pavimento soffice e vaporoso. Le nuvole hanno tanti rubinetti. Quando l'omino apre i rubinetti, le nuvole lasciano cadere l'acqua sulla terra. Quando l'omino chiude i rubinetti, la pioggia cessa. Ha un gran da fare l'omino della pioggia, sempre ad aprire e chiudere tutti i rubinetti. E qualche volta si stanca. Quando è stanco, stanchissimo, si sdraia su una nuvoletta e si addormenta. Dorme, 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 intanto ha lasciato aperti tutti i rubinetti e continua a piovere. Per fortuna, un colpo di duono più forte di tutti gli altri lo sveglia. L'omino salta su ed esclama, Povero me, chissà in quanto tempo ho dormito! Guarda in basso e vede i paesi, le montagne e i campi, grigi e tristi, sotto l'acqua che continua a cadere. Ora comincia a saltare da una nuvola all'altra, chiudendo in fretta tutti i rubinetti. Così la pioggia cessa, le nuvole si lasciano spingere lontane dal vento e muovendosi cullano dolcemente l'omino della pioggia, che così si addormenta di nuovo. Quando si sveglia, esclama, Povero me, chissà quanto tempo ho dormito! Guarda in basso e vede la terra secca e fumante, senza una goccia d'acqua. Allora corre in giro per il cielo ad aprire tutti i rubinetti e va sempre avanti così. Voce narrante, la maestra Fuffi Grazie a tutti!